Vito Gennaro si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca Alberto Davico che ha convalidato l'arresto e confermato i domiciliari a carico dell'uomo di 84 anni che deteneva in casa 12 pistole semi-automatiche, revolver, un fucile di fabbricazione artigianale e 400 cartucce. L'arresto per il quale oggi è stata disposta la convalida con applicazione della misura cautelare è il secondo in tre mesi a carico di Gennaro. Arresto scaturito dalla perquisizione di tre giorni fa durante la quale i carabinieri hanno rinvenuto circa 300 delle cartucce e un paio di caricatori per pistola. L'anziano era stato arrestato una prima volta a ottobre dello scorso anno quando i carabinieri del comando provinciale di Agrigento avevano trovato le armi e parte delle munizioni. Gennaro era pedinato già da qualche tempo dai carabinieri che avevano notato strani incontri tra l'anziano ed alcuni soggetti di interesse operativo. È anche in questa direzione che continuano le indagini. Dopo che nell'abitazione di Vito Gennaro è stato trovato un vero e proprio arsenale il giudice Davico ha accolto la richiesta dalla procura della Repubblica di Sciacca che per l'applicazione dei domiciliari tiene conto dell'età avanzata dell'indagato. Vito Gennaro è difeso dall'avvocato Giovanni Vaccaro del foro di Sciacca.